E' importante analizzare bene la partita il giorno dopo Innanzitutto stamattina ragazzi mi sono alzato con un sorriso a 64 detti ragazzi Cioè veramente alzarsi dopo la pulizione di Eriks e dopo ieri sera dopo che sono stato a festeggio a casa E' stato veramente qualcosa di emozionantissimo Sono ancora strafelice per il passaggio del turno dei miei ragazzi, della mia inter, della mia squadra del cuore Ed è stato veramente qualcosa di emozionante Soprattutto perché era un derby ma soprattutto anche perché comunque sia al di là di com'è andata Prima del gol di Eriks e poi quella palla ha fatto la differenza e mi ha fatto esplodere di gioia Analizzando bene quello che è successo ieri sera perché è giusto farlo Sono stato un po' diciamo diretto Diretto a quello che ho detto, diretto al video Nel video in cui stavo facendo in quel momento A mente fredda avevo solo il pensiero rivolto all'Inter che era passata Che aveva passato il turno Magari alcuni tifosi rossoneri Sai che sapete che comunque ho una grande stima verso il Milan Assolutamente Su questo non c'è dubbio Non c'è dubbio E per l'esultanza di ieri poi può essere anche un po' normale a volte Quando si tifa Inter, quando si affrontano dei derby Quando non si può uscire soprattutto di casa Allora si tende a cercare di far Di sfogarmi in qualche modo Perché comunque tutto quello che era successo ieri in campo È veramente successo di tutto Ibrahimović che fa sportellate con Lukaku Vanno faccia a faccia Rischiano di essere espulsi Poi sono stati ammoniti Poi Ibrahimović che fa il fallo su Kolarov da secondo uomo Quando c'era già un giocatore del Milan Che rincorreva lo stesso Kolarov Ibrahimović cosa ha fatto? È venuto Davanti all'altro giocatore del Milan Ha messo il piede Giustamente si è preso il secondo giallo Poi il calcio di rigore di Barella L'Inter che la risolve come sempre Con un giocatore incredibile Che ormai non vi sto neanche più qui a dire il nome Perché avete già capito chi è C'è Romelone-Lukaku Fred Tezza su calcio di rigore E poi l'Inter che continua a spingere A spingere A spingere A spingere Trova la punizione decisiva Mette peggiore in campo del Milan ieri sera Eriksen cosa fa? Si sistema il pallone Si sistema la sfera sul punto di battuta Di calcio di punizione E la mette sotto l'incrocio dei pali Dove Tataruzano può solo rimanere a guardare Soprattutto ci tengo a fare questo video Perché mi sono dimenticato ieri sera Mentre ero in estasi Dato che ieri sera ero in estasi Mi sono dimenticato di sponsorizzare un canale Quindi attenzione Vi lascio qui sotto in descrizione Il canale di cui voglio andarvi a parlare adesso Sotto nei commenti E in descrizione Il canale si chiama Redmon Adesso ve lo lascio qua sotto in descrizione E anche nei commenti Un canale di musica Un canale molto interessante Se vi piace la musica Ovviamente potete andare ad ascoltare E quindi Spero che voi potete Potete ascoltarmi Potete farmi questo grande favore Perché aiutiamo a far crescere questo ragazzo Un canale di mille iscritti come me Quindi Cercate di Essere presenti anche voi E cercate di iscrivervi più possibile Al suo canale Mi raccomando ragazzi Ve lo chiedo con tutto il cuore E poi voglio fare questo video Analizzando bene Ho analizzato quello che è successo ieri in campo Ma soprattutto anche per dire che Non cambia Non cambia Il mio essere simpatico Il mio essere simpatico Con i tifosi del Milan Perché comunque ragazzi Ve l'ho detto Cioè Quello che è successo ieri È successo perché io tifo l'Inter Quindi Non è successo perché Perché volevo andare contro il Milan O contro i tifosi del Milan Assolutamente Non era questo il mio obiettivo L'ho fatto perché A mente fredda È normale Che poi quando Apri la telecamera Devi mettere un video su Youtube Inizi a parlare Non ti rendi a volte Neanche conto di quello che fai Ma Ho analizzato più o meno Quello che è successo nella partita Nel video di ieri Non sono neanche andato Ad arrampicarmi sugli specchi Oppure a tirare fuori punti Dove non dovevo toccare Assolutamente Non Non mi sembra di aver fatto nulla di grave Quindi Questo è il messaggio che voglio dare A A voi tifosi del Milan E nulla ragazzi Adesso Stiamo Con i piedi per terra Testa bassa Lavorare Ma soprattutto Stasera c'è Juve Spal E quindi Scopriremo la nostra Semifinalista Che verrà contro di noi Andate e ritorno Per questa Coppa Italia L'anno scorso Siamo usciti L'anno scorso Ci è andata male L'anno scorso Purtroppo Il Napoli Ci ha buttato fuori Speriamo che quest'anno Dato che È una motivazione in più Per fare bene Dato che siamo Praticamente Da tutte e fuori Tutte e due le Coppe Tutte e due le Coppe Europee Sia Champions League Che Europa League Quindi È un motivo in più Forse per andare A prenderci una rivincita Forse per cercare di vincere Veramente qualcosa Questa stagione Guarda Io lo spero con tutto il cuore Ma lo spero con tutto il cuore Ma soprattutto Quest'anno abbiamo dimostrato Che con le squadre forti Forse mentalmente Siamo pronti Perché abbiamo battuto il Milan Ieri in Coppa Italia È vero che abbiamo perso In campionato Ma abbiamo perso anche In modo non meritato Per quello che abbiamo fatto Durante i 90 minuti Abbiamo battuto la Juve Abbiamo disputato Una grandissima gara Avevamo molta più fame di loro Siamo andati a mangiarli A centrocampo La mentalità è giusta Ma purtroppo Io a volte critico Questa squadra Proprio Perché Quando perde punti Mi fa incazzare Quando perde punti Mi fa incazzare Ma è una cosa che nel calcio Ci sta Ma non sempre Perché poi Quando devi andare Ad alzare dei trofei Quando devi andare Comunque sia Vincere un trofeo Non puoi permetterti Di andare a pareggiare Certe partite È questo Io vi invito Ad iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto A lasciare like A commentare A condividere il video Un bacio a tutti ragazzi E come sempre Sempre solo Forza Inter Mi raccomando Redmon Ve lo lascio qui sotto In descrizione E nei commenti Andatevi A iscrivere In massa Un bacio Grazie a tutti